martina sterili fantasie uno spettacolo dai mille colpi di scena si è un calidoscopio sia di emozioni che di personaggi e una bella prova attoriale intensa e dove dove per forza ci devi entrare con tutte le scarpe se no non ha senso perché venirlo a vedere perché perché si parla di qualcosa che non si parla troppo spesso e perché è una favola moderna e è bello anche assistere a delle pavole moderne e perché ogni tanto bisogna avere lasciare dei messaggi e questo ovviamente lascia un grande messaggio e quindi andiamo a vedere anche spettacoli che dentro ci lasciano qualcosa diamo l'appuntamento per domani domani pomeridiana ore 18 teatro spazio vi aspettiamo grazie